Oggi diamo il bentornato negli studi di Temporadio al primo cittadino di Cabriana, di nuovo con noi Giorgio Cauzzi, bentornato Sindaco. Buongiorno, buona giornata a tutti. Invitiamo sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105, se ci volete telefonare fatelo 0376 63 17 09, l'indirizzo mail è diretta a chiocciolatemporadio.it e poi vi invitiamo a usare la pagina Facebook di Il Gazzettino Nuovo e Temporadio sulla quale appunto siamo in streaming. Bene, allora cominciamo col parlare di lavori, lavori pubblici a Cabriana Sindaco? Sì, quelli non si fermano quasi mai, diciamo, a volte hanno dei rallentamenti ma si va avanti. Abbiamo ripreso la settimana scorsa a lavorare nel bosco di Villa Mirra, ormai questo è il terzo anno che grazie all'aiuto dei cittadini volontari che intervengono, sempre seguiti dall'assessore Prati e da persone esperte anche per una questione di sicurezza, abbiamo ripreso proprio questo ciclo di lavori di pulizia del bosco. Un lavoro molto importante perché quando l'abbiamo iniziato, tre anni fa, appena arrivati, eravamo partiti facendo fare un preventivo ad una ditta per capire quanto sarebbe costato il lavoro e questo preventivo si avvicinava ai 600 mila euro. Ci ha buttato un po', come si dice, a spalle indietro, no? Per dirla terra terra. Poi abbiamo pensato questa operazione e grazie alla straordinaria risposta dei cavrianesi, perché abbiamo davvero tanti volontari che si danno da fare, siamo riusciti a fare questa operazione. Questa è un'operazione, la pulizia del bosco, che poi permette a tutte le piante più giovani di rigermogliare, rinascere e permette a tutti noi di poter usufruire il bosco in inverno, ma soprattutto poi nella stagione un po' più bella, quando saremo primavera. Abbiamo le autorizzazioni della forestale e della soprintendenza, possiamo lavorare fino al 30 marzo quest'anno. Naturalmente i volontari potranno portarsi a casa la legna, perché alcune piante selezionate, che possono essere tagliate, che poi sono quelle secche, quelle ammalorate, selezionate anche in accordo con la forestale, la legna prodotta, i volontari se la possono portare a casa. Quindi chi vuole intervenire, di solito si fa il fine settimana, in genere il sabato mattina, il bosco di Villamira lo conosciamo tutti e tutti sono ben accetti. Per cui appunto un pagamento è praticamente ti ripaghi col tuo lavoro direttamente? Sì, non ti ripaghi esattamente perché è il lavoro che fanno i volontari davvero, a volte si è in mezzo ai ruovi, bisogna pulire, insomma è piuttosto laborioso. Uno lo fa proprio per spirito di collaborazione, per senso civico, secondo me. Poi giustamente uno dice a me la legna mi fa comodo, piuttosto che la buttate via me la porto a casa e quindi c'è anche questa operazione. Anche perché il metano non è la sostanza più, il carburante meno caro ormai, il metano domestico. Poi anche voi avete pensato ai terremotati e da questo poi nasce una serie di iniziative. Sì, abbiamo credo come tante altre comunità abbiamo pensato anche noi ai terremotati in varie forme e ci stiamo pensando ancora perché come tutti sappiamo purtroppo è finito un terremoto, ce n'è stato un altro e quindi ancora stiamo pensando di iniziative di solidarietà. Noi con la neocostituita protezione civile intercomunale che come sappiamo si è formata qualche mese fa tra i comuni di Cavriana, Monzambano, Guidizzolo e Ceresara, abbiamo fatto una raccolta beni di prima necessità verso la fine dell'estate, beni di prima necessità raccolti anche in funzione a quelle che erano le esigenze dei primi comuni terremotati e in più alcune associazioni, associazioni di Cavriana, associazioni di Guidizzolo hanno fatto la famosa matriciana solidale, ne avevamo parlato, che tra l'altro nei comuni dove è stata fatta ha avuto un grande successo. Io a Cavriana ero presente, c'erano un sacco di persone, veramente devo ringraziare i miei cittadini perché una presenza così, sinceramente non mi aspettavo così tanto, veramente sono stati davvero straordinari, anche chi ha donato dei beni di prima necessità. Noi siamo il gruppo di protezione civile intercomunale, per noi per Cavriana era presente il vice sindaco Guardini, c'era il sindaco di Guidizzolo, c'erano gli altri rappresentanti, sono andati il 28 ottobre ad Arquata del Tronto a portare due camion di beni raccolti nei quattro comuni e anche i fondi che sono stati raccolti con le amatriciane, c'erano anche le varie associazioni che hanno partecipato. Quindi è stato un inizio di questa protezione civile intercomunale, davvero un inizio dove si è dimostrata una grande solidarietà, ma grande solidarietà perché è bello anche sentire che la popolazione non solo partecipa per essere solidale a queste comunità che sono in queste gravi difficoltà, ma è stata proprio vicina alla protezione civile ed è la cosa più importante perché la protezione civile secondo me è il collegamento più diretto tra la comunità e poi tutte quelle che sono le forze dell'ordine, l'esercito eccetera. Quindi questo è stato molto importante. E ne approfitto per dire che la nostra protezione civile, naturalmente io parlo di protezione civile, devo ringraziare tanto anche i carabinieri in congedo perché sono un gruppo veramente straordinario, Cavriana in particolare. La nostra protezione civile che è appena partita inizierà dei corsi di formazione a metà dicembre, sono dei corsi serali, le ore non sono tantissime, ma volevo fare un appello a chiunque voglia iscriversi alla protezione civile, non ci sono vincoli particolari, ci sarà un corso che è un corso base e io davvero invito tutti a farlo. Poi uno prova, vede se se la sente poi di poter partecipare quando verranno fatti i vari servizi, ma ai corsi davvero vi invito a provare, soprattutto per i giovani. Non c'è uno sbocco lavorativo diretto, però c'è un'esperienza da fare e sappiamo che oggi l'esperienza è davvero importante, soprattutto magari per giovani che sono in cerca di primo lavoro, di prima attività. E questa davvero credo comunque sia una bella esperienza. Io ho avuto modo di partecipare come tecnico in anni passati a vari corsi, a vari anche prove di emergenza, situazioni di emergenza, di simulazioni come si dice e davvero acquisisci delle nozioni che prima magari non conoscevi e che quindi ti possono comunque servire poi nella vita, nella vita quotidiana. Quindi davvero invito tutti, informatevi nei vari comuni, potete venire nel comune di Cavriana, Guidizzolo, Ceresara, Monzambano, chiedete informazioni, i corsi dovrebbero partire, se ricordo bene, il 14 dicembre. Esattamente, anche perché tra l'altro poi ci sarà una serie di trasformazioni, la guardia forestale che viene accorpata ai carabinieri, eccetera, per cui quando noi sentiamo magari dei soccorsi, eccetera, si tratta di volontari, ma in realtà si tratta di volontari che però ne fanno anche la loro professione, perché per esempio un pilota d'elicottero, non è che faccia il pilota d'elicottero per essere un volontario, è un pilota professionista, per esempio come anche i bareglieri, eccetera. Per cui partecipare a questo corso non dà diretti sbocchi lavorativi, però può facilitarli. Sicuramente, questo sicuramente. Per cui appunto ogni cosa che si può mettere nel curriculum è un qualche cosa. Sicuramente, è anche una questione di senso civico, perché vuol dire collaborare tutti insieme. E poi c'è un'altra cosa che mi permetto di aggiungere. Se tutti o la maggior parte di noi cittadini è informata di quello che si deve fare, di ciò che può accadere nel momento in cui dovesse esserci un problema. E abbiamo visto che i problemi a volte sono cose che accadono anche da noi. Io ricordo a Guidizzolo qualche tempo fa, quando è successa quella disgrazia di quel bambino che ha negato nel canale, c'era tutta la protezione civile e tanti cittadini mobilitati. Se tutti siamo un po' informati, riusciamo tutti a muoverci meglio in tutte le situazioni. E questo è davvero importante. Si può salvare una vita, proprio sapere come muoversi. Faccio un esempio banalissimo. Una volta mi capitò di vedere una signora che era caduta nel parcheggio di un supermercato, aveva piccato la testa e sanguinava la testa. Prontamente arrivavano quelli e dicevano tiriamo su le gambe. No, ha un'emorragia la testa. No, fai peggio. Quindi sapere come agire, anche per salvare se stessi. Si può in certi casi. Si, sicuramente. Quindi questo a dicembre, diceva inizia. Quindi ci siamo. Tra l'altro quando si parla di protezione civile è obbligatorio anche parlare di sicurezza in senso lato. Perché appunto la protezione civile è questo fondamentalmente. Sicurezza anche però sotto altri aspetti. Si, sicurezza sotto tantissimi aspetti. Sappiamo che abbiamo il problema dei furti nelle abitazioni. Per esempio, che ritornano ciclicamente in certi periodi. Abbiamo problemi di sicurezza sulle strade. Problemi di sicurezza legati anche all'abbandono di rifiuti. Perché anche questa è una cosa che assume nel tempo connotazioni sempre più importanti. Stiamo lavorando molto anche in questo settore. Seppur con tante difficoltà. Perché le forze che abbiamo a disposizione sono poche. La polizia locale e cavriana è composta da due unità. Stiamo però collaborando tanto con i comuni vicini. Per cui ogni tanto facciamo dei servizi serali. Serali diurni anche. Soprattutto li facciamo serali proprio per un controllo sul territorio. Con le polizie locali dei comuni vicini. Stiamo ragionando sempre con i comuni vicini. Per avere la possibilità di valutare la possibilità di una polizia locale intercomunale. Sarebbe il secondo passo dopo la protezione civile. Dopo la protezione civile intercomunale. Avere una polizia locale intercomunale. Creerebbe proprio un connubio ideale. Per poter controllare anche le situazioni di sicurezza sul territorio. Stiamo lavorando in questi giorni e nelle prossime settimane. Un po' sulla videoserveglianza. Stiamo posizionando alcune telecamere sul territorio. Proprio per il problema dell'abbandono dei rifiuti. Quindi per cercare di bloccare questo fenomeno. Mi hanno anche chiesto i cittadini. Noi abbiamo fatto. Stiamo ancora facendo un giro nelle frazioni. Poi arriveremo anche in paese. Un giro nel quale facciamo delle serate. Dove l'amministrazione incontra i propri cittadini per sentire i problemi. Mi hanno chiesto i cittadini su alcune strade. Mi hanno segnalato che qualcuno va un pochino troppo forte. Soprattutto in centro abitato a Cavriana. Soprattutto nelle frazioni San Giacomo. E quindi stiamo anche ragionando sull'acquisto di qualche dissuasore di velocità. Che non sono dossi ma sono box per autovelox. Box che prevedono poi la presenza della polizia locale. Questo ci aiuterà anche a controllare e a limitare questi fenomeni. Giustamente. Allora facciamo una cosa. Andiamo in pausa. Ho ricevuto tantissimi messaggi. Stavo vedendo con Giorgio Cauzzi, sindaco di Cavriana. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Dialogando con Giorgio Cauzzi, sindaco di Cavriana. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Sta ricevendo un sacco di messaggi. Ci sono diversi complimenti, alcune invece contestazioni. Poi dopo andiamo a vedere. Guardi, le leggo subito. Sindaco, ho votato Tondini. Lo rifarei perché purtroppo lei è una grande persona. Ma il gruppo è veramente deludente. Dice Remo di Cavriana. Cosa dice, sindaco? È deludente il suo gruppo? No, io dal mio gruppo sono molto contento. Faccio solo una piccola considerazione relativamente negativa. Che parlano poco. E è un peccato, ce lo dico perché è un peccato. Hanno cose straordinarie da dire, però non tutti abbiamo il carattere di riuscire a parlare in pubblico. Per cui quando sono in presenza mia e siamo in pochi, hanno delle idee straordinarie, lavorano tantissimo. Quando devi farli parlare in pubblico è un po' un peccato perché davvero avrebbero tante cose belle da dire. Però anche su questo ci stiamo lavorando. Il mio assessore Gaia Disola ha fatto, ho lasciato a lei la cerimonia del 4 novembre e devo dire è stata bravissima. E ieri sera che c'è stata la serata contro la violenza sulle donne, io ero presente come osservatore, non ho detto una parola volutamente, mi sono messo dietro. L'assessore Gaia Disola insieme ai ragazzi del servizio civile, devo dire, hanno fatto una serata bellissima. Chi è rimasto a casa si è perso qualcosa di straordinario. Ma questo per dire che un po' per volta si lavora, il gruppo lavora bene, ne sono molto contento. Un po' per volta riusciremo anche a sentire magari un po' di più la loro voce e allora vi accorgerete che sono davvero delle persone straordinarie. Guardi che è arrivato infatti un messaggio a te al riguardo. Dice bellissima la serata di ieri sera contro la violenza sulle donne, peccato il poco afflusso. Bravissima l'assessore Gaia Disola, bravo Giorgio. Bravo Giorgio no, sono innocente da questo punto di vista, nel senso che a parte aver acceso e spento le luci quando per questioni di scenografia non ho fatto nulla. È stato davvero bravo l'assessore e bravi ragazzi del servizio civile. Poca gente purtroppo adesso la sera comincia a fare un po' freddo. Era fastidioso, è un po' faticoso uscire. Però davvero è stata una bella serata. Sindaco, state lavorando bene, anche se con fatica avanti così, Cavriana, Cavriana, Cavriana. È arrivato anche questo, quindi sicuramente... Ci sono anche alcuni messaggi con soltanto Avriana, se li ha mandati ci può rimandare la prima parte perché leggiamo soltanto questo. Vabbè qua è uno scherzo, sicuramente la chiamano Mr. Kautz. Dicono che vuole istituire un tribunale politico per gli oppositori, posso fare il giudice. Questa è una provocazione sicuramente che è arrivata. Mai pensato e mai detto di farlo. Non è solo l'ultimo dei miei problemi, è l'ultimo dei miei impegni. Ci sono un sacco di cose da fare, anche se volessi non avrei il tempo, ma non voglio. Allora, Sindaco buongiorno, posso però chiedere perché avete spostato i multa Velox, perché ormai sapevano dove stavano e non facevate più multe, punto di domanda. No, non sono stati spostati, sono rimasti dove erano. Noi attualmente ne abbiamo due, uno è sulla Goitese e uno ce l'abbiamo a San Giacomo. Sono nella stessa identica posizione. Ne verranno messi altri più avanti sulla Cavallara perché c'è un incrocio molto pericoloso e lo sappiamo che tutti li vanno forti. Ma sono dove erano prima. Quello sulla Goitese, se non si vede più, state attenti, io ve lo dico molto tranquillamente perché non siamo lì per fare cassa, siamo lì per fare da deterrente. State attenti perché non c'è più il box, c'è il palo con la telecamera quella in alto. Quindi uno passa, potrebbe pensare, non c'è più, vado. Non è vero, andate piano che tra l'altro è una questione di sicurezza. I limiti andrebbero rispettati. Va detto una cosa, e qua non c'entra il Comune Cavriana, se chi fa i lavori, che emette i cartelli, quelli posticci, li levasse dopo perché quello non sarebbe neanche male. Allora, dicono che da noi regni la Lega e voi siate burattini in mano sua, dice Michele. Assolutamente, credo di aver dimostrato di non essere burattino di nessuno, soprattutto dal partito dal quale ho la tessera perché sono iscritto, come ho sempre detto. Quindi questo lo dimostro, credo, ogni volta. Dunque, Sindaco, Tondini insiste che serve una struttura coperta per lo sport e non me la sento di dargli torto, dice Ivan. Allora, certamente se avessimo la possibilità di fare una struttura coperta per lo sport non sarebbe male, ma sicuramente dobbiamo fare le cose in base alla gamba che abbiamo. Non possiamo fare il passo più lungo della gamba. Abbiamo tante cose da fare in paese, abbiamo problemi sulle scuole, abbiamo una disponibilità per un centro sportivo che è limitata, quindi non si può in questo momento fare una struttura coperta. Abbiamo uno spazio per il centro sportivo in centro al paese, vicino al centro sportivo esistente. Se in futuro ci saranno le disponibilità economiche e le possibilità, certamente, ma nessuno butta via una struttura coperta se ha la possibilità di farlo. Poi, sindaco, perché vi siete isolati? Andate con altri comuni e consociatevi, dice un messaggio. Non siamo isolati, abbiamo collaborazioni a 360 gradi, ma veramente l'ultima collaborazione, anche se un po' distante, la stiamo facendo con il comune di Castellucchio, dove stiamo collaborando con la polizia locale, anche se sarà solo per un paio di mesi, sia con la polizia locale e sia con l'ufficio tecnico. Poi, allora, vediamo altri messaggi ancora. Sto augurando dei complimenti, complimenti per le tempestive comunicazioni, per il volantinaggio, che sono qualcosa di efficiente da parte del comune. Questo è un merito dei ragazzi del servizio civile, davvero sono molto bravi. Poi, c'è chi si firma, Hannibal the Cannibal, vabbè, allora, insisto, sindaco, dobbiamo fare di più per le nostre aziende e non solo per quella del vice sindaco. C'è sì una polemica, cioè Roberto dice dare un incarico a Guardini, che è architetto, lo studio in paese, azienda edile, eccetera, eccetera. Allora, no, ma vi spiego, sapete benissimo quello che è successo. Il nostro responsabile dell'edilizia pubblica, purtroppo, l'architetto Righetti, si è fatto male in moto. Sono cose che purtroppo possono capitare. Si è fatto male in moto, per un mesetto siamo rimasti scoperti dal punto di vista del settore ufficio tecnico, edilizia pubblica e patrimonio, che è un settore molto importante perché è tutta la gestione degli operai esterni, tutta la gestione del patrimonio comunale, gli scuolabus e tutti quelli che sono i lavori pubblici. In quel momento di vuoto il vice sindaco, architetto tra l'altro, quindi con una qualifica, si è proposto volontariamente e gratuitamente, signori, gratuitamente, di fare lui per un mese il responsabile per evitare di avere quella parte del comune bloccata. Ho dato questo incarico, l'ha fatto gratis e naturalmente io e lui ci siamo beccati una denuncia all'ANAC da parte della minoranza, che è una cattiveria. Una cattiveria tra l'altro fatta sulle persone, non sulle attività fatte. Allora, denunciatemi se faccio qualcosa che non va bene e che fa il mio interesse, ma non se uno cerca di lavorare gratuitamente come il comune. Guardi, mi ricordo, l'abbiamo letto sui giornali, ma anche in tv è passato, quel sindaco di quel piccolo comune del Cremonese, che è stato denunciato dalla sua minoranza perché potava gli alberi del parco dei bambini, è stato denunciato, si è preso la multa dall'INAI perché lui lavorava non in sicurezza. Ecco, siamo a questi livelli. Questa è politica di basso profilo. Veramente, io sapete che non mi arrabbio mai e non sono neanche arrabbiato per questo perché ho problemi ben più grossi di queste cose. Se l'ANAG mi sanzionerà, pagherò la mia multa. Proprio non me ne preoccupo più di tanto e quello che ho fatto lo rifarei. Guardini ha fatto il bene e l'interesse della comunità in quel mese lì e si è preso dalle responsabilità che la maggior parte delle persone non si prendono. Allora, Lorenzo le scrive sindaco, non diarretta gli invidiosi, appunto. Questo è un altro messaggio che è arrivato mentre stava parlando. Lei è un grande sindaco con attenzione ai bisognosi, bravo, dice Stefania anche. E poi c'è chi dice, scuole sindaco, ci sono novità? Allora, il vice sindaco che invece che fare il suo interesse fa quello della comunità per ritorno al discorso di prima, insieme all'assessore Prati e al consigliere Guidetti e questo anche per dire quanto il gruppo lavora, sono stati in regione a Milano la settimana scorsa proprio per spingere e parlare insomma con la politica in regione, con i politici in regione proprio per vedere di poter avere più possibilità per avere contributi per questa nuova scuola. Intanto stiamo continuando a lavorare sulle scuole esistenti comunque. Allora, lei sindaco sta dicendo delle cose non giuste, dicono anche, però non so riguardo a che cosa. Magari chiediamo all'ascoltatore di specificare su che cosa. Può darsi, non dico sempre solo cose giuste, come tutti gli esseri umani, sbaglio. Perché dice consorciarsi con Castellucchio e non con Guidizzolo? Perché consorciarsi con Castellucchio e non con Guidizzolo? Allora, stiamo lavorando con Guidizzolo e che a volte serve un attimino più di tempo perché non è che tutti i comuni sono lì pronti quando chiedi di fare una collaborazione sì, ok, posso, facciamo. Stiamo lavorando tantissimo con Guidizzolo in questo periodo e quindi probabilmente arriveremo anche ad altre funzioni associate con loro. Già, come ripeto, abbiamo la protezione civile e stiamo lavorando su altre cose. Al momento avevamo un'esigenza un po' impellente, Castellucchio ci ha dato questa disponibilità, l'abbiamo sfruttata subito. Certo. Signor Sineco, dice un altro messaggio. Può dire dei 10 euro a persona della matriciana quanto è stato devoluto? Credo sia giusto dire che più di 8 euro e mezzo sono stati devoluti. Sì, questi sono tutti i conteggi che naturalmente hanno fatto le associazioni che hanno partecipato e fatto la matriciana. È verissimo, la maggior parte di quei 10 euro, mi sembrano poco più di 8 euro e 50, sono stati tutti devoluti. Se ricordo bene, io adesso non ho la cifra esatta, ma mi sembra che abbiamo raccolto circa 3.000 euro che sono stati portati poi ad Arquata del Tronto. Benissimo. Sindaco, lei come Renzi promette ma non fate? Dice un altro... si sente come Renzi lei? Io... allora no, assolutamente no. Assolutamente no. No, io cerco sempre... allora, di solito sono uno che non promette. Mi piace sempre le cose prima farle e poi casomai dirle. E se le dico è perché davvero le stiamo facendo. Per cui non mi vedo in quella frase. Allora, Tondini era veramente capace e voi siete improvvisati. Questa è una critica generica, se vuole rispondere... Può anche darsi, ne parleremo a fine mandato. Benissimo. Se i cittadini riterranno questo a fine mandato, se Tondini si ricandiderà, lo voteranno. Allora, dunque, volevo sapere se al sabato il Comune è aperto, dato che tante persone lo chiedono. Forza Giorgio anche di sì. Allora, a cominciare da questo sabato che viene, il Comune sarà aperto. Benissimo. Poi, allora... Al mattino, chiaramente. Complimenti al Comune per l'organizzazione del Pedibus e per la compagnia offerta agli anziani della Casa di Riposo, Fondazione San Biagio. Sì, è stato un grande lavoro anche qua dell'assessore Guardini, quello di gestire tutti i movimenti del Pedibus, dagli scuolabus per quel problema che c'era stato sull'uscita di scuola. Ne siamo usciti fuori, non è stato facile, ci sono stati momenti un po' difficili, ma i cittadini lo sanno perché abbiamo fatto anche qualche assemblea pubblica, però insomma sembra che abbiamo ingranato. E sono bravi, però devo dire una cosa, davvero bravi, tutte le persone, stavo per dire ragazzi perché mi piace chiamarli tutti i ragazzi, indipendentemente dall'età, tutte le persone che fanno i volontari del Pedibus, che accompagnano i bambini, davvero sono delle persone straordinarie. Benissimo, siamo in chiusura, noi ringraziamo moltissimo il primo cittadino di Cavriana, Giorgio Cauzzi, so che aveva degli appuntamenti, vuole dirli in pochi secondi. E' verissimo, si avvicina il Natale, ma al di là di questo, molto importante, noi abbiamo una serata sulla sicurezza, come proteggere i bambini su internet, mercoledì 23 novembre alla sera nelle cantine di Villa Mirra, mi raccomando venite, è una serata soprattutto per i genitori, avremo un ispettore della polizia postale, una psicologa, davvero vi raccomando perché è un settore molto importante. Abbiamo tantissime cose perché si avvicina il Natale, adesso non riuscirò a dirle tutte, ma comunque potete andare sul sito del Comune, sulla pagina Facebook, l'8 dicembre, Natale Inn, che organizza Capriana, credo stanno preparando le locandine in questi giorni, abbiamo le magie di Natale il 18, abbiamo anche quest'anno la rassegna dei presepi che fa la Proloco, quindi contattate la Proloco, se avete dei presepi che volete mettere in mostra, fatelo perché guardate l'anno scorso è stato davvero bello, l'anno prima anche, quindi miglioriamo, tante altre cose, ma comunque se andate sulla pagina Facebook e sul sito ci sono le locandine. Benissimo, grazie a Giorgio Cavalzi, grazie a tutti, buona giornata. Grazie Sindaco.